fondi da parte dell'ordine dei medici e essendo stata assolta in primo grado ma poi condannata in appello per abuso d'ufficio pluriaggravato, ingiurie pluriaggravate eccetera eccetera, ci si chiede come mai possa addirittura ancora operare come dirigente medico in un carcere, qui sembra veramente diciamo oltre il danno la beffa, cioè in un carcere esattamente nelle condizioni in cui si trovò appunto nelle vicende legate al G8 di Genova. Ora, la domanda molto semplice è se il Governo è a conoscenza di questi fatti, se intende diciamo nei suoi poteri, nelle sue prerogative assumere delle iniziative e se vi è posto appunto nell'ordine dei medici per chi ha deriso, dileggiato, offeso, percosso, umiliato i pazienti di cui amorevolmente e con senso di professionalità avrebbe dovuto occuparsi. Grazie, collega Quaranta. Adesso il Sottosegretario per la Salute, Vito De Filippo, a facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Il Ministero della Salute si era già attivato da alcuni mesi, prima di ricevere una specifica ripetizione sottoscritta da 117 medici, datata 22 ottobre 2015, concernente i provvedimenti dell'Ordine dei medici nei confronti di due dottori in relazione agli eventi del G8 di Genova. Infatti, a seguito della notizia apparsa sui giornali data 17 aprile 2015, relativamente alla partecipazione della dottoressa al seminario sul diritto alla salute in carcere, organizzato dall'AS numero 3 di Genova, è successivamente annullato. Il Ministero della Salute si è tempestivamente attivato presso l'Ordine dei medici e chirurghi di Genova, con nota di pari data indirizzata anche per conoscenza alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri. In tale occasione, nel richiamare la recente sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, la quale ha stabilito che nella circostanza dei fatti gravissimi accaduti a Genova nel corso del G8 del 2001, l'Italia violò il divieto di infliggere torture e trattamenti inumani e che la reazione delle autorità non è stata adeguata, questo Ministero chiese all'Ordine di Genova di comunicare se e quali provvedimenti fossero stati adottati nei confronti della dottoressa. Lo stesso 17 aprile 2015 venivano richieste le medesime notizie anche all'AS numero 3 di Genova, presso la quale la dottoressa era ed è attualmente dirigente medico. A seguito di tale richieste di informazione, l'Ordine di Genova, con nota del 20 aprile 2015, ha comunicato che con delibera del 20 maggio 2014 era stata inflitta alla dottoressa la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione di medico-chirurgo per la durata di tre mesi. L'AS numero 3, dal canto suo, ha fatto presente, con nota sempre del 20 aprile 2015, che a conclusione del procedimento disciplinare è stata irrogata alla dottoressa la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per tre mesi. Per quanto concerne il dottore, l'Ordine dei medici e chirurghi di Genova, con delibera del 2 dicembre 2014, ha influtto al sanitario la sospensione dall'esercizio della professione di medico-chirurgo per la durata di mesi sei. Poiché a seguito delle comunicazioni delle sanzioni da parte dell'Ordine di Genova, i due medici non hanno presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti e le professioni sanitarie nei termini previsti per legge, i due provvedimenti disciplinari sono divenuti quindi definitivi. Questo Ministero ha provveduto a richiedere al Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici e chirurghi degli odontoiatri notizie in merito alle eventuali iniziative intraprese dalla Federazione Medesima. La stessa Federazione Nazionale, in data 16 marzo 2016, ha comunicato di aver richiesto informazione all'Ordine dei medici di Genova sulla specifica questione disciplinare, ricevendo notizie delle sanzioni inflitte ai due sanitari in questione che ho già descritto. La stessa Federazione ha, peraltro, precisato che, ai sensi dell'articolo 3, lettera F del decreto legislativo del Capo provvisore dello Stato del 13 settembre 1946, numero 233, il potere disciplinare nei confronti dei singoli iscritti attribuito ai competenti organi degli ordini provinciali dei medici e chirurghi degli odontoiatri e che la Federazione non ha alcuna competenza neanche in sede d'appello nei confronti dei provvedimenti disciplinari assunti dagli organi disciplinari stessi. Per quanto riguarda le questioni relative al coinvolgimento del dottore per la morte di una detenuta rinchiusa nel carcere di Ponte X e all'iscrizione della dottoressa nel registro degli indagati per omissione e favoreggiamento a seguito di un pestaggio a un detenuto recluso nel carcere di Marassi, l'Ordine di Genova ha comunicato di aver erogato al dottore la sanzione disciplinare dell'avvertimento in data 20 marzo 2012 e per quanto concerne la situazione della dottoressa, l'Ordine ha più volte chiesto alla Procura della Repubblica notizie in merito alla sussistenza di procedimenti penali a carico della sanitaria, ma ad oggi è ancora in attesa, ci dice l'Ordine di riscontro. Per gli aspetti di competenza, il Ministero della Salute assicura di aver posto in essere ogni attività diretta a vigilare l'operato dell'Ordine, a garanzia del rispetto delle norme di deontologia professionale che regolano il corretto rapporto tra i professionisti e l'utenza, la legislazione vigente, la gerarchia delle decisioni e quella che ho indicato a partire dall'Ordine provinciale. Peraltro l'azione disciplinare, ripeto, è attivata dall'Ordine che valuta in piena autonomia gli illeciti disciplinari, gli abusi, le mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale anche alla luce delle norme di etica professionale. Ieri sera il Ministero della Giustizia ci ha segnalato con una comunicazione che, per quanto riguarda l'adozione di iniziative normative volte all'allontanamento delle persone condannate da luoghi sensibili, l'ordinamento prevede già oggi pene accessorie, la cui irrogazione è rimessa alla insindacabile valutazione dell'autorità giudiziaria. Grazie. La ringrazio. Il deputato Quaranta ha facoltà di rispondere e indicare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Dunque, io ho ascoltato con grande attenzione la risposta del sottosegretario che, devo dire, in maniera molto puntuale ha riportato lo stato dei fatti e a me sinceramente veniva qualche brivido quando sentivo elencare i vari casi, anche diciamo aggiuntivi rispetto a quelli che io nella mia breve interrogazione iniziale ho riportato, che fanno riferimento a questi due soggetti. Ora, credo che sia del tutto evidente, anche dalla risposta del sottosegretario, che, visti i fatti, la gravità dei fatti è molto difficile poter prendere atto della situazione ed essere soddisfatto.